video velocissimo perché oggi classificata da solo perché parti in montagna in vacanza da oggi pomeriggio fino al 5, il 6 con il nuovo operatore quindi ultima possibilità per tornare a oro 4 sono oro argento 1 e niente eh sì possiamo dire niente manca una partita se mi dà 80 punti sono già oro 4 poi dopo ragazzi stacco perché stacco metodiaremo fino al 6 marzo perché sarebbe qualcosa di bello cioè vincere questa partita da solo che in classificata è sempre più difficile dai dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza va a fare la bolla faccio la via mamma mia è la mia prima di oggi non c'è problema sono svegliato dopo adesso dire ok ce la farò prima o poi penso la penso fatta le botte vabbè se ne sto occupandomi di entrare vedete le botte quando dammelo se avessi saputo delle botte avrei fortificato delle botte no il nemico non ha trovato il contenitore cercheranno di localizzarlo durante l'assalto è dolla non è Ok, di solito questo l'avevo anche l'auto però, crediamo che si Ok Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio Ma io non vorrei schiare in questi casi Ricarica Acule in posizione Ricarica E'. Genova Scuola E'. E'. E' Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Mancano 15 secondi, rimangono 10 secondi, rimangono 5 secondi, squadra d'attacco eliminata